Gentili telespettatori buona giornata. Vauro Senesi è un vignettista, lui che si è qualificato come l'ultimo comunista d'Italia. Lui fa vignette, sapete che spesso le vignette vengono utilizzate per fare sattira politica, spesso sono molto forti queste vignette. La vignetta che cos'è alla fine? La vignetta è un modo per anche offendere il politico di turno senza le parole. Tu fai un'immagine fotografica di un politico parlando magari non direttamente, facendo delle allusioni, facendo una parafrasi. Quindi rappresentate un politico in un modo ridicolo, magari offensivo, per mettere in risalto dei suoi presunti comportamenti. La vignetta è quello che è molto vicino all'insulto, anzi a volte è un insulto, però ti dicono è un disegno, l'ha fatto un vignettista, come se la vignetta potesse essere assolta dall'offendere o insultare le persone. Comunque, Vauro Senesi, vignettista di sinistra, ma la sua satira è ancorata alla dialettica comunismo-fascismo, ne ha fatte di vignette contro chiunque, sempre e soprattutto di centrodestra. Quindi poi non si capisce se questa satira, alla fine, è parente del cattivo gusto, dell'offesa. È stato condannato anche per vilipendio, a causa di una vignetta su Gesù. Oggi lui scrive, disegna per il fatto quotidiano di Marco Travaglio e per Michele Santoro, l'amico Santoro, per un suo progetto digitale. È stato sospeso dalla RAI per un'altra vignetta sul terremoto dell'Aquila. Ha attaccato Mattarella, ha fatto della sua papeide di Wojtyla un business a ritratto Zelensky in un certo modo, ma soprattutto praticamente ha fatto un'enciclopedia di vignette contro il capitano leghista, il suo politico preferito, rappresentato in tutti i modi possibili e immaginabili. E poi Silvio Berlusconi che dicono ma poi in fondo alla fine gli ha voluto bene, tanto da volergli dare un bacio in bocca per ragioni di geopolitica e con particolare fantasia anche della Meloni. Ecco, avete visto che comunque con Berlusconi alla fine c'è una sorta di amnistia tra i suoi grandi accusatori oggi che è passato ed è stato inserito nel tempio dei grandi italiani della Repubblica Italiana. Ma poi si scopre che poi Mauro Senesi ha un suo modo, Vauro, Mauro, Vauro, vabbè, Vauro, magari è Mauro, chi lo sa, Vauro, ha un suo modo di essere anticapitalista per fare qualche soldo in più. Dice così, le vacanze nostalgiche le lascia i vecchi militanti e lui va con la famiglia a New York. Dice bello l'anticapitalismo, discriminante minima per chi si dice comunista. Quindi le vacanze non si fanno in Unione Sovietica che non esiste più, ma si va a New York. E beh, insomma, i comunisti poi, sapete, c'è anche chi ha l'attico a New York. È un pull factor di attrazione. Poi si scopre che Vauro Senesi le sue vignette le vende a 130 euro a botta su Etsy.com. Ecco, fare il socio con le multinazionali degli altri, capitalismo cinese, scrive qualcuno, diciamo. No big tech! E poi si va a vendere in internet le sue vignette a 130 euro l'una, in modo che un fans del Senesi se le può comprare tutte, incorniciarle e mettersele, e non nello studio, nella sua casa. C'è chi è fissato con le lampade, c'è chi è fissato con i mappamondi, chi è fissato con le barche in miniatura, chi è fissato con gli orologi antichi. Insomma, io sono fissato un po' con tutto. Colleziono un po' tutto, però, insomma, non proprio più. Una volta collezionavo tutto, oggi no, perché alla fine le cose non te le porti da nessuna parte. Vedi, avete visto Berlusconi? Cosa si è portato con sé? Niente. Una bara fatta di superlegno, però, tutto lì, alla fine che ti puoi portare? Un bel vestito di quelli super, di super marca artigianale, ti porti una bella bara, magari al polso c'hai un super orologio, però, dove vai? Che ti porti? Niente. Lasci tutto lì. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica, di notizie e di file da te. Chi fa da sé, fa per tre, tra l'allero, tra l'allè. Bene, ricordatevi che poi anche su Facebook c'è la pagina Teleitalia, dove trovate questi video di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete che potete condividere, se piace, con chi volete, se piace. Grazie a tutti, buona serata, buon pomeriggio per chi è a casa, per chi va al lavoro, per chi è appena tornato, per chi sta viaggiando in treno, chi in macchina. Bene, un buon tutto a tutti. Auf Wiedersehen, goodbye, hasta luego, arrivederci, a presto.